Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nello studio di Affari Tuoi si è scatenato un vero gelo. Stefano De Martino ha preso di mira il dottore, usando parole che hanno lasciato perplessi alcuni fan. Alcuni hanno addirittura notato che Amadeus non si sarebbe mai comportato in quel modo. Nell'ultima puntata di Affari Tuoi la concorrente Vittoria, studentessa di filosofia accompagnata dalla mamma Barbara, ha avuto un percorso sfortunato, perdendo gradualmente tutti i premi più importanti. Ma ciò che ha davvero sorpreso il pubblico in studio e a casa è stato l'atteggiamento di Stefano De Martino nei confronti del dottore. Il conduttore ha perso la pazienza quando il dottore ha proposto un semplice cambio anziché offrire denaro. Infastidito, ma sempre sorridente, De Martino ha esclamato, pezzo di fango. Se in studio si è scatenata la risata, a casa qualcuno ha avuto da ridire. I fan di Affari Tuoi hanno commentato su social lo scontro tra Stefano e il dottore. Alcuni hanno apprezzato l'audacia di De Martino, mentre altri lo hanno duramente criticato, confrontandolo con il vecchio presentatore Amadeus, sottolineando che quest'ultimo non avrebbe mai osato tanto. Insomma, un momento di tensione e divertimento che ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico del pubblico.